Musica Giulia, allora cinema, teatro, televisione, oltre allo studio naturalmente? Ecco, oltre allo studio no, chiaramente mi si darà da molte possibilità su 360 gradi, principalmente quelle in vien da sede nel mondo degli spettacoli. Se dovessi dare una graduatoria, di preferenza sicuramente mettere al primo posto quelle della conduzione e poi appunto perché no magari il cinema che è comunque un terreno fertile ma che non ho mai toccato con mano, quindi non so davvero quali potrebbero essere gli scontri anche personali su questo campo. Certo, tutti parlano della tua dialettica quindi la conduzione sarebbe quella più indicata. Ah sì, lo spesso. E' ancora prematuro, ma hai già avuto delle proposte o ancora? Abbiamo avuto diversi proposti ma chiaramente sono proposte a livello molto di progetto e idea, chiaramente anche perché molti programmi partiranno da gennaio e a livello anche più logistico e sono state lette praticamente due settimane fa, quindi ancora troppo verso per parlarne. Noi ci sono motivi interessanti, quindi effettivamente tante strade percorribili, bisogna soltanto ora mettere un po' sul piatto della bilancia e fare le nostre scelte. Aiuterai la tua Messina come ti ha chiesto a Corinti? Ma io lo spero vivamente, dico sì, lui che abbiamo avuto comunque enormi soddisfazioni nel corso di quest'anno, quindi sarebbe bene portare avanti comunque dei progetti assieme perché questa è casa nostra. Ok, grazie Giulia, in bocca al lupo e tanti auguri per la tua carriera. Ok, grazie a tutti.